Tema, quale parabola preferisci? Svolgimento. Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra, al centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di mille miliardi, più dei cinesi, e Dio avrà tre porte, una grandissima che è l'inferno, una media che è il purgatorio e una strettissima che è il paradiso. Poi Dio dirà, fate silenzio a tutti quanti, e poi li dividerà, a uno qua e a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice, uè, a dove vai? Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in mille pezzi, i buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli dei purgatori un po' ridono e un po' piangono, i bambini del limbo diventeranno farfalle. Io, speriamo che me la cavo. I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world And I think to myself What a wonderful world And I think to myself Yes, I think to myself Yes, I think to myself What a wonderful world Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes